Una buona serata, terza edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con il duplice omicidio avvenuto questo pomeriggio ad Ortona. Due donne sono state uccise, l'autore è Francesco Marfisi, sessantenne, che ha ucciso la moglie e una sua amica a coltellate. Nel tardo pomeriggio ha confessato tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Ha ammesso il duplice delitto Francesco Marfisi. L'uomo ha ucciso a coltellate la moglie Letizia Primiterra, 47 anni, e la sua amica Laura Pezzella, 33 anni. A muovere la mano del sessantenne operaio di Lanciano, un odio incontenibile e una separazione che non voleva proprio accettare. La furia cieca di Marfisi non si è arrestata nemmeno di fronte agli occhi della figlia al quinto mese di gravidanza, rimasta fortunatamente soltanto ferita nella colluttazione che ha visto soccombere la madre. Il duplice delitto si è consumato in due zone differenti di Ortona. In Via Zara, nel quartiere popolare di San Giuseppe, dove Letizia Primiterra, si era rifugiata a casa di un'amica e poi in contrada a Tamarete, dove è stata uccisa Laura Pezzella, la più cara amica di Letizia. In Via Zara, Marfisi ha suonato al campanello dell'amica chiedendo a Letizia Primiterra di scendere per parlare. La donna è caduta nel tranello e dopo essere scesa è stata pugnalata mortalmente nell'androne del palazzo. Mentre Marfisi, in preda alla furia omicida, si dirige verso contrada a Tamarete e scatta l'allarme ai carabinieri. Marfisi arriva nell'abitazione di Laura Pezzella, alla quale probabilmente attribuisce la fine del rapporto e la aggredisce pugnalandola. Non pago, con gli abiti ancora intrisi di sangue, Marfisi torna in Via Zara, forse per uccidere anche l'amica che aveva ospitato la moglie, oppure per colpire a morte anche la figlia. Ma a quel punto trova ad attenderlo i carabinieri che dopo una breve colluttazione lo arrestano, mettendo fine ad un pomeriggio di follia e odio cieco. Nell'auto di Marfisi ci sono ancora i due coltelli da macellaio usati per i delitti. Solo martedì scorso la moglie di Marfisi aveva compiuto gli anni e postato su Facebook una foto di una felpa con su scritto 47 anni, fantastico, e le leggende sono nate ad aprile. Il primo commento a questa foto era stato proprio quello dell'amica Laura Pezzella, che scriveva «Auguri di buon compleanno. Come un bambino aspetto quel regalo atteso che la vita mi deve da tempo, quel qualcosa chiamato serenità» è stato l'ultimo pensiero condiviso su Facebook da Letizia Primiterra lo scorso 3 di aprile. E sui luoghi del duplice omicidio di Ortona, che sono presidiati dai carabinieri, si è recato il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, insieme alla squadra rilievi tecnici del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Chieti. Marfisi, l'autore del duplice omicidio che lavora con la COGAS, un'azienda che commercializza gas ed energia elettrica, si trova ancora nella caserma della compagnia dei carabinieri di Ortona in attesa di essere interrogato dal magistrato. Fra moglie e marito era in corso la separazione, fatto che sarebbe alla base dell'omicidio. I due vivevano in abitazioni diverse. Proprio per questo, notizia battuta qualche minuto fa, dall'agenzia ANSA, si apprende che la moglie Letizia Primiterra aveva paura del marito e aveva chiesto aiuto. C'erano segnali gravi. La signora si era rivolta a un servizio sul territorio per segnalare di essere vittima di maltrattamenti. Ora ci sentiamo di esprimere un grande sgomento e dobbiamo capire dove non è stata compresa. Così, l'avvocato Francesca Di Muzio, presidente di Donna e Centro Antiviolenza di Ortona, parla del duplice omicidio di questo pomeriggio. Al servizio delle vittime di abusi e violenze, l'associazione ha una sede proprio nel centro di Ortona e dal 2013 uno sportello nell'ospedale Bernabeo, grazie a un accordo con le ASL. Ma la Primiterra uccisa dal marito insieme all'amica Laura Pezzella si era rivolto a un altro dei tanti servizi attivi in città. Non l'abbiamo presa in carico direttamente noi, quindi conosco la vicenda per quanto mi è stato riferito, spiega Di Muzio, ma esiste una rete fra le associazioni ed evidentemente in questo caso qualcosa non ha funzionato specialmente a livello di valutazione del rischio. Dobbiamo ripensare il modo di lavorare, di fare formazione dei nostri operatori. Gli strumenti per prevenire ci sono, ma dobbiamo evidentemente pensare ad un'attenzione maggiore. I casi di violenza non sono semplici e comunque non esiste il raptus. Quello di oggi è l'epilogo tragico di uno schema che si ripete in molti casi di femminicidio. Ovviamente nelle prossime edizioni torneremo a parlare del duplice omicidio di Ortona. Rimaniamo però adesso sempre in tema cronaca, ma ci spostiamo a Martinsicuro perché a marzo dello scorso anno era stato condannato a 17 anni di carcere per concorso nell'omicidio di Roberto Tizzi. Il 35enne marchigiano freddato con un colpo di pistola a Martinsicuro il 7 giugno del 2015 mentre stava rincasando. Adesso a distanza di un anno per Antonio Ziu, 20 anni, si sono aperte le porte del carcere. La Corte d'Assisi d'Appello infatti ha accolto la richiesta di domiciliari presentati dai difensori del giovane e gli avvocati Antonio Valentini e Maurizio Cacace con il ventenne che adesso attenderà a casa il processo d'appello la cui data non è stata ancora fissata. Antonio Ziu fu condannato in primo grado a 17 anni nel processo corrito abbreviato davanti al GUP Roberto Veneziano insieme al fratello Rudy e al padre Michele con l'accusa di aver aiutato l'autore materiale dell'omicidio, Arian Ziu, condannato a 18 anni. L'omicidio Tizzi si consumò a Martinsicuro, come detto, nel giugno del 2015 con l'uomo ucciso sotto casa da Arian Ziu con due colpi di pistola calibro 6,35. Un vero e proprio agguato, secondo la procura, con l'agguato mortale che secondo l'accusa sarebbe stata una vendetta per una discussione per futili motivi qualche ora prima avuta dalla vittima con Arian Ziu. Cambiamo argomento adesso sul sito di Bussi e sulle problematiche riguardanti la bonifica. Questa mattina è tornato a parlare il Movimento 5 Stelle nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Consiglio regionale e domani verrà presentato un esposto in procura. Il servizio è di Paolo Renzetti. Consigliera Marcozzi, si parla del sito di Bussi e a tal proposito voi presenterete nelle prossime ore alla Procura della Repubblica di Pescara un esposto. Perché questa iniziativa? Perché mentre oggi qualcuno parla di reindustrializzare il sito, in realtà l'area di Bussi e di Piano d'Orta risultano ancora contaminate. Dunque sono ancora pericolose a distanza di 10 anni dalla scoperta. Noi vogliamo capire se sono stati commessi degli errori o delle omissioni nella messa in sicurezza dei siti. A chi vi rivolgete in particolare al di là dell'esposto in procura? Beh, ci rivolgiamo a tutti i soggetti interessati. Insomma, quello che vogliamo capire, quello che ci chiediamo e che si chiedono ancora agli abruzzesi è perché a distanza di 10 anni i siti siano ancora inquinati. La messa in sicurezza andava fatta, per cui ci rivolgiamo a tutti quegli soggetti, a tutti gli attori della vicenda che avrebbero dovuto mettere in sicurezza e che forse non lo hanno fatto. Si è perso evidentemente del tempo, secondo voi? Beh, così pare. La messa in sicurezza è una misura di emergenza. Sono passati 10 anni, l'emergenza c'è da 10 anni, evidentemente è troppo tempo. Prima adesso di Sanità, dopo le contestazioni di alcune sigle sindacali della Sanità, appunto, sulle nomine operate dalla Regione, oggi è arrivata la risposta dell'assessore regionale, Silvio Paolucci. Lo ascoltiamo. Assessore Paolucci, nelle ultime ore sono arrivate le critiche dei sindacati della Sanità sul piano regionale della Sanità in merito ad alcune nomine che i sindacati definiscono inutili. Lei cosa risponde? Non è proprio così. Le sigle sindacali in Sanità dei medici sono oltre 20, per cui averne 3 o 4 è difficile avere l'unanimità sui atti aziendali. Quindi intanto direi che tanti sono a favore sia delle sigle sindacali dei medici, anzi la stragrande maggioranza, sia di quelle del comparto. Abbiamo raggiunto una sfida storica con il Dipartimento delle Professioni, proprio per gli infermieri, gli ostetici, i tecni di radiologia. Cioè non ci sono solo quelle 3 o 4 sigle sindacali. Dopodiché sul merito le due figure intanto non costano nulla perché trovano spazio in una riorganizzazione complessiva dove puliamo molto gli staffi della direzione generale di ogni azienda. In secondo luogo entriamo sui requisiti. Se c'è un tema di requisiti, porte aperte, abbiamo avuto l'incontro, direi che però va riconosciuto l'esigenza che sulle cosiddette linee delle produzioni, quindi dell'assistenza ospedaliere e territoriale, ci debba essere un presidio più efficace rispetto alle organizzazioni che abbiamo conosciuto finora. Poi si è parlato anche nel merito dell'ospedale di Chieti, di una problematica strutturale dell'ospedale di Chieti. Qual è la posizione della regione? Ma è risaputo che ha una problematica di vulnerabilità sismica, in qualche caso di staticità, cioè a seconda dei corpi, tenuto conto che, non lo dico io, ma lo dice una CTV del Tribunale. E quindi quella perizia in qualche modo cristallizza che c'è un problema che va aggredito, va affrontato e va risolto e l'unico strumento che abbiamo a disposizione, come tutti sanno, è quello del progetto di finanza, con una gara che evidentemente deve tenersi, nella quale la regione Abruzzo deve stressare l'aspetto economico per rendere alle migliori condizioni possibili e la realizzazione di un'opera necessaria, come tutti sanno. Parliamo di sicurezza delle scuole. Adesso due ordini del giorno proposti e presentati oggi in Consiglio Comunale a Chieti e riguardanti appunto la sicurezza dei plessi scolastici che sono stati votati dall'Aula all'unanimità e al servizio di Francesca Romana Testi. Un Consiglio Comunale dedicato alla sicurezza degli edifici scolastici a Chieti. Ovviamente i dati sono quelli del terremoto e delle preoccupazioni anche di tutte le azioni operate. In questo caso il Movimento 5 Stelle cosa ha presentato? Il primo, l'aggiornamento da parte degli uffici comunali delle informazioni che devono essere contenute sul sito internet del MIUR su Scuola in Chiaro. È un sito che esiste ormai dal 2011, viene costantemente aggiornato e il Comune di Chieti purtroppo non ha ancora comunicato i dati aggiornati dei suoi edifici scolastici. Non è il Sindaco o la Giunta a dover dare informazioni al MIUR, ma sono gli uffici che debbano trasmettere sulla scorta delle indagini che già sono state fatte dal Comune informazioni al Ministero. Ed è questo quello che loro chiedono e sul quale io sono assolutamente d'accordo e mi farò io parte dirigente perché ci sia un'ulteriore sollecitazione ai nostri uffici perché facciano in modo che le informazioni al Ministero arrivino al più presto. L'altro ordine del giorno invece crea qualcosa di nuovo. Ne abbiamo proposto che venga creato un fascicolo cartaceo e informatico per ogni edificio scolastico cittadino, non soltanto degli edifici appartenenti al Comune ma anche di quelli appartenenti alla provincia, affinché appunto su questo documento siano riportate tutte le informazioni relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle normative tecniche sulla sicurezza, quindi antincendio e normativa tecnica antisismica, affinché queste informazioni possano essere liberamente consultabili e fruibili da parte di tutti quanti i cittadini. Si sa quanti sono gli edifici scolastici a rischio, sicurezza? Sicuramente ci sono degli edifici scolastici che oggi sono considerati maggiormente sicuri e altri in un numero però ancora troppo alto che non hanno tutte le caratteristiche necessarie per poter garantire un'agibilità serena. Ovviamente devono diventare zero gli edifici che hanno poca sicurezza. Chiaro dobbiamo lavorare ancora molto e molto si deve ancora fare, ma oggi possiamo consegnare alla città un 50% quasi di scuole che hanno già ricevuto totalmente interventi, interventi che totalmente risolvono il problema, altri invece che devono ancora essere adeguate sia sismicamente che sotto il profilo della prevenzione incendi. Poi però bisogna anche fare chiarezza sul fatto che gli indici di vulnerabilità sismica non sono risposta alla sicurezza che viene richiesta dai cittadini e dai genitori. In Italia non esistono, sono pochissimi casi in cui vi sono scuole antisismiche totalmente. Le altre vanno adeguate, il che vuol dire che anche con l'adeguamento quelle scuole non avranno mai, non ci daranno mai a noi genitori la certezza che nel caso di un sisma importante la risposta sia quella che noi ci aspettiamo, cioè che non succeda nulla. Spostiamo adesso nell'area Vestina, la città di Penne fuori dal cratere con 639 abitazioni periziate dalla protezione civile nazionale, 150 soggette a sgombero. Il vice sindaco Vincenzo Ferrante chiarisce i provvedimenti che si stanno adottando. Il servizio è di Vestina News. Il terremoto del 30 ottobre scorso e poi del 18 gennaio scorso hanno lasciato segni pesanti nel centro storico del capoluogo Vestino. La città di Penne ha vissuto da agosto, dal 23 agosto al 18 gennaio un momento di vera drammaticità. Molti cittadini sono stati presi proprio nel segno più importante, quella che è la casa, l'abitazione principale. 750 sono le richieste effettive fatte dai cittadini che abitano tra il centro storico e l'esterno della città. Siamo arrivati a circa 150 perché l'altro giorno la dichiarazione del nostro tecnico del comune parlava di 130 in aumento. Diciamo che oggi possiamo dire in termini definitivi che rasendiamo le 150 e oltre unità non agibili. I cittadini devono essere abbastanza sereni perché per quanto riguarda la questione, ho letto bene i decreti, la questione dell'edificio, quindi del mattone, diciamo che ingide molto poco il fatto di essere dentro o fuori il cratere. Cioè tutte le abitazioni possono avere lo stesso ristoro indipendentemente dall'appartenenza o meno al cratere. Le richieste sono tantissime, ci sono tante ragioni, però io da uomo di governo mi sento anche di dire della mia città che bisogna anche mantenere la relativa calma in quanto si possono ottenere anche ulteriori e gradite misure alla città che può riequilibrare quella minima questione di non essere dentro il cratere con altre misure pure opportune che possono dare ai cittadini la stessa cosa e non di più. Dona un'ora per la ricostruzione di Civitella del Tronto, una campagna nazionale di raccolta fondi realizzata dalla Tempor SPA che ha voluto premiare la grande forza d'animo dimostrata dalla popolazione civitellese. Consegnati i primi 10 mila euro per il recupero della scuola materna e il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dona un'ora per la ricostruzione di Civitella del Tronto e la campagna di raccolta fondi lanciata a livello nazionale dalla Tempor SPA che ha voluto così premiare la resistenza della popolazione civitellese duramente colpita dagli ultimi eventi sismici e franosi. Un piccolo grande progetto realizzato da tutti i dipendenti della Tempor e che si è già concretizzato con la somma di 10 mila euro pronti a finanziare la ricostruzione della scuola materna di Civitella. Siamo molto legati a questa regione, chiamiamo, è una regione in cui siamo presenti dal 2007, abbiamo delle nostre filiali storiche. Noi abbiamo aderito ad un progetto che ci ha proposto il comune di Civitella del Tronto in partnership con un altro nostro cliente, la Pilkington, abbiamo aderito ad un progetto di ricostruire o partecipare alla ricostruzione di una parte di una scuola materna di Civitella del Tronto e tutti i nostri colleghi sia interinali che dipendenti di struttura hanno condiviso donando un'ora del proprio lavoro. C'è qualcuno che ha donato anche più di un'ora però diciamo che l'adesione è stata importante da parte di tutta la nostra azienda. La ricostruzione della scuola materna di Civitella del Tronto rappresenta indubbiamente un segnale di rinascita di questo territorio dove però bisogna continuare a lavorare in ogni direzione. Questi mesi abbiamo potuto riscoprire il grande cuore degli italiani, molti privati, molte aziende privati ma anche privati cittadini stanno aiutando le nostre realtà. Oggi qui c'è l'iniziativa di una grande azienda che è la Tempor che ha fatto una raccolta tra i propri lavoratori di un'ora di lavoro e per dedicarlo alla ricostruzione della scuola materna di Civitella. Come è noto tutte le scuole del capoluogo sono state dichiarate inagibili a Civitella e noi sin da subito abbiamo iniziato e voluto un programma di ricostruzione che per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola media ormai siamo già a buon punto quindi a settembre speriamo di poter riaprire il nuovo polo. Siamo ancora nella fase di reperimento dei fondi per la costruzione della scuola materna però riteniamo che un paese non possa ricostruire se non partendo dalle scuole dei bambini e quindi oggi siamo qui impegnati per questo anche per ringraziare la Tempor. Intanto è stata riaperta al pubblico la grande chiesa di San Francesco che ospiterà le celebrazioni pasquali, un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità. Ci spostiamo a Pescara adesso perché sull'eventuale apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e sul mercato dello stadio di lunedì 24 aprile abbiamo ascoltato l'assessore Giacomo Cuzzi. L'ha ascoltato per noi Paolo Renzetti. Assessore Cuzzi il 24 aprile per Pescara sarà una giornata particolare. In serata ci sarà la gara di campionato con la Roma, una gara che comunque potrebbe riservare dei rischi di ordine pubblico. La mattina di lunedì è programmato il mercato dello stadio Mercato Ambulante. Ci sarà questo mercato? Innanzitutto voglio chiarire che ad oggi noi non abbiamo sospeso alcuna attività mercatale quindi il mercato è in programma per il 24. Non abbiamo ricevuto delle comunicazioni ufficiali ma ci sono stati solo dei contatti relativi appunto come dicevi prima alla sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento del mercato visto che l'intera area dovrà essere chiusa anche con largo anticipo appunto per i motivi legati alla sicurezza e all'arrivo dei tifosi da Roma. Noi però riteniamo che non si possa bloccare il lavoro in un particolare periodo anche in virtù del ponte del 25 aprile rispetto a una partita e soprattutto che le attività commerciali ed economiche nell'area debbano essere salvaguardate. Per queste ragioni abbiamo chiesto un incontro che si terrà domani mattina e riteniamo di poter offrire ampie soluzioni che garantiscono da una parte lo svolgimento delle attività mercatali come di consueto e dall'altra lo svolgimento della partita in piena sicurezza. Riteniamo però che una partita debba essere una festa e per questo vanno salvaguardate in primis le attività lavorative e poi la sera ci sarà la partita di calcio e pensiamo che tutto possa combaciare con un po' di buonsenso e soprattutto aumentando l'impegno appunto nei confronti della sicurezza che deve essere sicuramente salvaguardata. Di vampa la polemica a Teramo per la prossima stagione di Prosa. Probabilmente ne saranno due, una proposta da Abruzzo Circuito Spettacolo che ne vanta l'esclusiva e l'altra dalla storica associazione Riccitelli. Vediamo. Si infiamma a Teramo la polemica sulla doppia stagione di Prosa 2017-2018, una presentata per la prima volta da Abruzzo Circuito Spettacolo, attuale gestore del teatro comunale e l'altra proposta come da tradizione dalla storica associazione Primo Riccitelli, ad attaccare la CS di Eleonora Coccagna che assicura alla cittadinanza che l'unica stagione teatrale sarà la sua e che nessun altro metterà piede con la Prosa al teatro comunale. Questo però non avverrà. A favore della Riccitelli scende in campo una squadra agguerrita, provincia, comune, associazioni culturali terramane, Università di Teramo e Fondazione Tercas. Per le istituzioni la Riccitelli è patrimonio della città. Non si possono chiudere le porte alla cultura in un momento tanto fragile per questo territorio. Le istituzioni di Teramo si schierano a fianco della cultura e della Riccitelli. E' quello che ha detto appunto il Sindaco, sono perfettamente d'accordo con lui per le problematiche che ha accennato e mai come in questo momento mi sono sentito partecipe di questa cosa perché come attore tutto quello che ha detto, le varie problematiche che ci sono, il Ministero, la viabilità, la cultura, gli eventi vari e così, sono da noi attori rappresentati. Noi in ogni lavoro che facciamo ci mettiamo una certa attualità, cerchiamo di far anche divertire il pubblico tutto sommato delle tragedie che ci affliggono. Per il pubblico Teramano che cosa ha scelto quest'anno? Devo dire che la scelta è stata bella, difficile, però ecco con queste problematiche che mi ero prefisso inizierà Gabriele Lavia, Gabriele Lavia che conosciamo, grande amico, grande studioso, grande attore, grande regista, grande tutto, il quale porterà qua il sogno di un uomo ridicolo, di Dostoievski ed è un testo che lui, quando ancora non faceva l'attore, ha letto anche a degli amici. Apriamo adesso l'ampia pagina dello sport partendo con la Serie A e con il Pescara, cresce l'attesa per la partita di dopodomani tra i Biancazzorri e la Juventus, tornerà in riva l'adriatico Massimiliano Allegri lanciato proprio dal Pescara nel calcio che conta. Per i Bianconeri ci sarà ampio turnover anche se dovrebbe partire dal primo minuto Paolo Di Bala, protagonista in Champions League contro il Barcellone che proprio oggi ha rinnovato il suo contratto con i Bianconeri fino al 30 giugno 2022. Nel Pescara mancheranno Bob, Pepe Vitturini e Gilardino, difficile anche il recupero di buyback, il servizio di Andrea Costantini. Conto alla rovescia per il Pescara in vista del match di prestigio di sabato pomeriggio all'adriatico Cornacchia con la Juventus in uno scenario da tutto esaurito. Biglietti polverizzati in pochi minuti in un indiscorso per vedere all'opera la vecchia signora, peraltro redduce dalla vittoria nell'andata del quarto di Champions sul Barcellona. Proprio alla luce della partita di ritorno del Camp Nou, l'atteso ex Massimiliano Allegri dovrebbe effettuare un ampio turnover, affidandosi a Barzagli, Rugani, Listeiner, Asamoah, Lemina, Sturaro e Marchisio. Di Bala e Iguain saranno alcuni dei punti fermi della squadra che scenderà in campo in rival adriatico. Tornerà da avversario Massimiliano Allegri, che tanti amici ha ancora a Pescara, città che lo ha lanciato nel calcio che conta, protagonista, tra le altre cose, della seconda promozionina targata Giovanni Galeone. Quell'Allegri che era in campo il 30 maggio del 1993, quando il Delfino già retrocesso inflisse una delle sconfitte più umilianti nella massima serie alla Juventus, allora guidata da Trapattoni e reduce dal trionfo in Coppa UEFA. Allegri andò a segno due volte in quella circostanza, il gol del pareggio sul calcio di rigore e quello del 3-1 nel secondo tempo con la complicità di Carrera. A distanza di 24 anni Allegri vuole lasciare il segno nella storia della Juventus, che mira al sesto scudetto consecutivo ed ha ancora aperta la possibilità del triplete. Pescara può essere una delle tappe di questa storia. I biancazzurri, che in panchina, nell'immaginario collettivo, hanno uno dei simboli dell'anti-juventinità, Zdenek Zeman, proveranno ad opporsi facendo appello al fatto che non c'è nulla da perdere dopo il pari di Empoli e confidando in un avversario distratto dei tanti impegni. Nel test di ieri a Cupello, 8-2 per il Pescara, che sarà privo degli ex Pepe Stendardo ed anche di Vittorini, Girardino e dello squalificato Bovo. Difficile il recupero di Baibach, così dal primo minuto ci sarà Cerri, mentre l'altro giocatore di proprietà dei bianconeri, Castanos, partirà dalla panchina. Stamani intanto la società con una nota ufficiale è intervenuta, smarcandosi nella querelle sul progetto del nuovo stadio, dopo che ieri Forum H2O e Stazione Ornitologica Abruzzese, hanno ricevuto risposta dal Comune che allo Stato non esiste alcun progetto agli atti. Ad oggi, si legge nel comunicato, sono stati investiti quasi 120 mila euro per progetti di massima, studi di fattibilità e business plan. Gli stessi sono stati visionati dal Comune di Pescara e da altri enti competenti. Pertanto alla luce del percorso fino ad oggi effettuato, al di là della parte burocratica, certo non di sua competenza, si evince il chiaro intento di questa società nel cercare di realizzare una struttura moderna e importante, sia per il calcio pescarese, sia per l'indotto economico cittadino. Questa struttura, si legge sempre nella nota, può essere una base per la crescita societaria, un bene per l'economia cittadina, ma certo non può e non deve essere un argomento di strumentalizzazione politica alla quale la Delfino Pescara non vuole partecipare. E dalla Serie A scendiamo in Serie D, oggi turno prepasquale per i gironi F e G, vediamo tutti i servizi delle partite. Il Matelica guadagna un punto su un San Nicolò battuto in casa dal Castelfidardo 2-1, con i biancazzurri che si fermano a quota 8 risultati utili consecutivi. Epifani deve rinunciare al capitano Petronio per un problema muscolare, oltre agli infortunati di lungo corso Napolano e Pretara. Moretti invece sconta la prima delle tre giornate di squalifica. Bisegna viene dunque arretrato, accanto a Dilullo, con Di Benedetto, Bosidi, il giovane De Carolis, alle spalle di Traini. Dall'altra parte Bolzan deve fare a meno di Molinaro e Lodi, con l'ex biancazzurro Galli, punto di riferimento dell'attacco ospite. Nei marchigiani subito presenti, inoltre, gli ex Teramo Filippone, Pigini e Orlando. La partita è soporifera per mezz'ora, con il Castelfidardo che ci prova in un paio di occasioni dalla distanza, ma senza impensierire più di tanto Ciotti. Il San Nicolò, proprio allo scoccare della mezz'ora di gioco, passa in vantaggio con Traini, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancazzurro. E la rete viene così annullata. Qualche minuto dopo Traini fa l'assistment per Di Benedetto, anticipato sul più bello però da Silletti. Il Castelfidardo riparte, proprio Silletti serve albanesi sulla corsa, ma il suo tiro centra la parte alta della traversa e finisce fuori. Prima di rientrare negli spogliatoi è ancora Di Benedetto ad avere una buona occasione, con un diagonale che attraversa l'area e termina fuori, senza che Traini riesca ad intervenire. Nella ripresa ci sarebbe bisogno di un San Nicolò differente, se la scuola di Epifani vuole davvero ambire alla seconda piazza. Cambiamento che però non arriva e la gara sembra potersi sbloccare solo con un episodio che arriva puntuale al diciassettesimo. Bisegna indirizza un calcio di punizione in aria, il capitano per un giorno De Santis e il più rapido di tutti ad infilare alle spalle di Melillo. Gli ospiti, con ben altre necessità di classifica, si buttano in avanti e nel giro di tre minuti la gara incredibilmente cambia. Prima è Montagnoli a bucare ciotte vicino all'area piccola per il pari, poi Maisto trova di testa addirittura il vantaggio per il Castelfidardo. Nel finale gli ospiti reclamano un calcio di rigore con l'arbitro che non è dello stesso avviso, mentre Traini dall'altra parte vede annullarsi un'altra rete per fuorigioco e poco dopo lo stesso attaccante viene murato da Filipponi nel suo tentativo in aria che chiude di fatto la gara. Per il San Nicolò ci saranno altre tre gare a disposizione per provare a centrare il miglior piazzamento utile in ottica playoff, distante adesso tre punti. Oggi sono deluso perché non ci siamo fatti trovare pronti a una partita che l'hanno messa in guardia e quando incontri queste squadre disperate di punti possono sembrare facili. Oggi abbiamo pensato che era tutto facile, era una passeggiata, poi quando ti rendi conto in campo che non è così, te la sei costruita mentalmente così, non la riesci a rigirare e abbiamo fatto una bella figura oggi. Mi dispiace perché oggi potevamo raggiungere questo secondo posto, vuol dire che anche io non sono stato bravo questi tre giorni a fargli capire che oggi era una partita troppo importante e delicata, però questo ci serve anche per l'essere uomo. Quando si incontri partite difficili o facili sulla carta dobbiamo pensare che non possiamo mai abbassare la guardia perché vuol dire che non siamo una grandissima squadra. Dopo le polemiche degli ultimi dieci giorni e il silenzio stampa imposto dal presidente Paris, l'Avezzano risponde sul campo con una prestazione d'orgoglio e Aldemar si impone il pari 1-1 ad una ostia mare riduce da un ottimo momento di forma. La squadra di Tortora non ha regalato nulla all'undici laziale che in caso di vittoria avrebbe strizzato l'ottio anche al primo posto. L'Avezzano si presenta all'appuntamento senza fra gli altri Bittai e Serrago e soprattutto Menn e Tabacco, difesa da inventare con Assisi e Tariuk centrali, Tridente e Marolda, Leto e Padovani. Nelle file dello stiamare squalificati Roberti e Martorelli, Ceattili a ridosso del centro avanti Vano. Inizio di gara soporifero nel quale Tortora perde Padovani per questo contrasto dopo pochi minuti. L'attaccante stringe i denti ma dopo il ventesimo alza a bandiera bianca, dentro Pollino. Poco dopo si fa notare Vano sugli sviluppi di un corner ma non inquadra la porta. Al ventiquattresimo primo tiro in porta dei padroni di casa con Deramo tutto facile per 4-8. L'estremo Lidenza deve superarsi però al ventisettesimo. Lancio di Sassarini per Marolda che elude il fuorigioco e incrocia. 4-8 ci arriva e salva in angolo. Lo stiamare si sveglia nel finale di primo tempo e colleziona occasioni importanti. Al quarantunesimo Cocco sfonda a sinistra e centra. Ci provano prima Attili e poi Vano ma la difesa marsicana fa muro. Sul successivo schema da calcio ad angolo Vano anticipa tutti. Vole a colpo sicuro ma Sassarini salva sulla linea. Quarantatresimo da Stolfo in buca per il solito Vano che a tu per tuo con Lewandowski centra il palo. Poi la palla si impenna e Attili manca il tapin a porta vuota. Così si va all'intervallo sullo 0-0. Ad inizio ripresa lo stiamare sembra voler forzare i ritmi. Lewandowski mette i brividi ai suoi tifosi ma Attili non ne approfitta. E allora è Lavezzano a passare con un'azione di rimessa. Triangolo Marolda. Leto Marolda e sinistro potente del centro avanti che non dà scampo all'estremo laziale. Lo stiamare subisce il colpo. Lavezzano rischia poco e al trentatresimo va vicino al raddoppio quando il neo entrato di Genova libera col tacco. Leto 4-8 si oppone alla bene meglio. Leto torna poi in possesso della sfera e va giù in area per Politi, Dilecce, Simulazione e dunque Cartelino Giallo. Sventato il pericolo lo stiamare si getta alla caccia del pari. Il tiro di Bellini è alto al trentasettesimo ma al quarantesimo l'1-1 si materializza quando Colantoni crossa dalla sinistra e il neo entrato Olivetti incorna la perfezione. Nulla da fare per Lewandowski. Prima del tripice fischio l'ultimo sussulto è dell'Avezzano con la sassata di di Genova di poco alta. Mister avete sprecato delle opportunità alla fine del primo tempo e poi la partita vi si è complicata. Sì, il calcio è questo. Quando non si sfruttano le occasioni di Gabbio è una mezza disattenzione nostra, il nostro errore ha permesso il gol dell'Avezzano e poi siamo stati bravi anche a pareggiare perché non era facile. Chiaramente si poteva fare meglio soprattutto il primo tempo però insomma ho visto una squadra ancora viva che siamo lì in zona playoff e vogliamo arrivarci fino alla fine. Non basta la Nurese dominare per tutta la gara l'Aquila per ottenere tre punti che avrebbero significato l'accesso quasi certo ai playoff. A tre minuti dalla fine è arrivata la Beffa servita da Noman che ha replicato il gol del vantaggio di Molino. Un premio eccessivo per gli ospiti e un'occasione sprecata per la Nurese. La cronaca. Verdi e Azzurri partono decise di imporre il proprio gioco ma la prima conclusione è di Peluso al secondo minuto con un tiro che sfiora il 7. Al quindicesimo la Nurese va vicina al gol col Molino su punizione assegnata per un fallo su Etli ma Farroni si supera e smanaccia la palla. Verdi e Azzurri continuano ad attaccare costringendo spesso la difesa dell'Aquila a rifugiarsi in corner. Al ventiduesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Peana colpisce di testa ma Farroni smanaccia la difesa libera. Noman al venticinquesimo ci prova di testa ma la conclusione viene controllata senza problemi da Frasca. La Nurese risponde al ventisettesimo con Curcio che da 30 metri calcia fuori. Al trentasettesimo nuova occasione per i padroni di casa con Molino e Cadao che si ostacolano e la palla finisce fuori di poco. Al quarantesimo la Nurese passa in vantaggio. L'arbitro assegna un rigore per un fallo di Pupeschi su Etli dal dischietto Molino spiazza Farroni. Al secondo tempo la musica non cambia. Al sesto sugli sviluppi di un corner Curcio calcia a botta sicura ma la conclusione viene deviata da un difensore in angolo. La Nurese controlla la gara mentre l'Aquila sembra non avere la forza di reagire. Al ventitresimo Curcio serve Cadau che si fa parare il tiro da Farroni. Il portiere ospite è ancora protagonista al ventiseiesimo quando si supera su Tuponi. L'ultima occasione per i Verdi Azzurri arriva al ventisettesimo con un salvataggio su un tiro di Cadau. La gara sembra finita ma al quarantaduesimo viene servita la beffa. Ranelli sulla sinistra lavora bene un pallone e crossa per Noman che di testa supera Frasca gelando il Frogheri. Nel finale non succede nulla e l'Aquila torna a casa con un punto d'oro in chiave playoff. Al Nurese rimane il rammarico di non aver vinto una partita dominata in lungo e in largo. Ma niente è perduto. I Verdi Azzurri hanno dimostrato di poter vincere ovunque e tenteranno di conquistare i punti persi oggi nella prossima trasferta di Ostia. Proprio non riesce alla vastese di Favo di decollare e trovare un possibile posto al sole. Troppi punti persi per strada segnano ora un percorso nel classico anonimato con la grande occasione di avvicinarsi alla zona playoff letteralmente dilapidata. All'Aragona passa l'Alfonsine di bassa classifica di misura tra i mille malumori di una tifoseria che pensava a ben altri esiti. Senza lo squalificato Cosenza e l'infortunato romano, Favo propone un 4-2-3-1 che non brilla con Galizia, Fiore e Mensas, Reggio Reprisco. Gli abruzzesi partono bene, si rendono pericolosi con Fiore all'ottavo minuto ma peccano di concretezza e spunti efficaci d'attacco. E guai a distrarsi con i romagnoli che al ventitresimo per poco non passano in vantaggio con la conclusione di Tosi sventata da Supermarconato. L'impressione che in velocità gli aragonesi possano bucare la retroguarda bianco-azzurra e al ventisettesimo Fiore fa tutto bene ma la mira non è quella giusta. Due minuti dopo Manzo scalda i guanti al portiere Calderone. Ultima nota del primo tempo la conclusione di Bamonte dalla distanza che non sorprende Marconato. Più vastese per possesso palla ma le idee e le geometrie non sono quelle dei giorni migliori e nella ripresa gli ospiti sapranno approfittarne. Navisaglia già al dodicesimo con la retroguardia vastese in pieno affanno. Gli aragonesi fanno fatica eppure Prisco al ventunesimo è sfortunato col palo che gli nega il gol mentre al ventisettesimo si protesta per un presunto fallo di mano in area dell'Alfonsine. L'arbitro lascia correre. Alla mezz'ora l'episodio che segna la gara da Calcio Franco e Bamonte che gira benissimo di testa eppure alle spalle di Marconato. Gioia bianco-azzurra col popolo bianco-rosso che rumoreggia a piena voce. La reazione non è affatto venemente. Al trentaduesimo Prisco servito da Mensà subisce l'intervento del portiere mentre sul calcio d'angolo successivo la deviazione di testa sempre di Prisco non trova fortuna. Triplice fischio con fischi sonori dell'Aragona. La vastese perde un'altra occasione forse l'ultima tranne miracoli improbabili di fine stagione. La dirigenza adesso può cominciare davvero a progettare il futuro. Ed è tutto anche per la terza edizione del nostro telegiornale TG6 che torna domani puntuale con la prima edizione alle ore 14. Tutto? Buonanotte.